Non ci sta il sindaco di Otranto a vedersi bocciare il progetto del porto turistico che gli operatori attendono da 40 anni ed è indispensabile ad una città che per vocazione geografica sorge sul punto più stretto e navigabile del canale d'Otranto. Per non parlare del fatto che il parere negativo della sezione paesaggistica della sovrintendenza arriva dopo sei anni dalla prima convocazione durante i quali l'ente non ha mai manifestato alcuna perplessità lasciando che l'iter approvativo procedesse con notevoli investimenti di denaro a risorse umane tanto da parte della società italiana per condotte d'acqua che copre interamente il costo dell'opera per 50 milioni di euro che di gli enti pubblici impegnati. Una contestazione quella della sovrintendenza che non ha ragion d'essere secondo il sindaco. La non tutela di luoghi paesaggistici suggestivi e stiamo parlando del retro banchina di un porto del porto attuale e di una zona la cosiddetta zona cave che da sempre è stata utilizzata dalla comunità cittadina come discarica di inerti. Io vi invito ad andare a vedere i luoghi e soprattutto capire qual è l'ingombro che le opere a mare come visuali dal mare verso terra farebbero, produrrebbero rispetto alle emergenze monumentali di cui appunto è ricca la nostra città. Perciò la battaglia sarà senza quartiere con ogni azione possibile sia essa di protesta che per vie legali e intanto martedì il sindaco sarà ricevuto al ministero.